Ciao a tutti amici, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare della famosa, o meglio famigerata probabilmente, serie tv di Resident Evil, visibile in esclusiva su Netflix. Allora ragazzi, questa serie tv era molto attesa, ve ne voglio parlare principalmente perché insomma i giochi di Resident Evil sono quelli che vanno per la maggiore sul mio canale e quindi era giusto insomma parlare un po' di questa serie tv che era molto attesa soprattutto dal sottoscritto ma anche da tanti altri gamer insomma affezionati al brand della Capcom. Questa serie tv era attesissima già dai primi trailer insomma si era creato un discreto hype. Poi però siamo arrivati appunto al rilascio di questa serie tv e in tantissimi, in tantissimi si sono lagnati del fatto che fosse, che sia una serie tv molto scadente. Io l'ho vista e adesso vi voglio dire la mia. Come al solito prima di iniziare vi chiedi di mettere un mi piace al video, di condividere sui social, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati su tutti i video live che faccio quasi ogni giorno, se volete supportarmi, se volete aiutarmi, abbonatevi al canale per voi dei video delle live in esclusiva e anche tutta una serie di altri vantaggi. Inoltre andate ad iscrivervi anche a tutti gli altri canali che ho aperto, Telegram in particolare e anche Twitch. Allora ragazzi torniamo a noi, Resident Evil la serie tv. Allora, tutti noi, io compreso, pensavamo in un'evoluzione dei personaggi dei giochi principali. Pensavamo magari fosse una serie tv incentrata su quello che accadeva a Chris, a Claire, a Leon, insomma a tutti quei personaggi principali della serie. E invece ragazzi, per grande sorpresa di tutti devo dire, la serie è incentrata principalmente su personaggi nuovi o tra virgolette discendenti di personaggi nuovi. Naturalmente questa prima parte di recensione è una parte generica, quindi non andrò a rovinarvi il piacere di vederla o il dispiacere di vederla. Solo più avanti farò degli spoiler, ma magari ve lo dico. Allora, dicevamo, questa serie tv composta da otto episodi, insomma i classici otto episodi della serie pilota generalmente, parla appunto di quello che è successo dopo il disastro di Raccoon City, ma molto dopo. Quindi parliamo di 20 anni dopo, quindi più o meno siamo nel 2022, forse 22 anni dopo. Ok, intanto 2018, 24 anni dopo. La serie tv è ambientata quindi nel 2022, quindi ai giorni nostri, ma poi ci sarà un successivo balzo in avanti fino ad arrivare al 2036. Quindi già questo ha fatto un po' storcere il naso a tanti. Io vi posso dire che apprezzo quando un film o una serie tv cerca di battere nuove strade, di tracciare nuovi orizzonti. Non mi piace molto vedere un copio in colla di un videogioco trasportato in un film, trasposto in un film o una serie, perché alla fine io vado a vedere, alla fine vado a rivedere il videogioco. Quindi a questo punto gioco il videogioco, se devo star via, tra virgolette, perdere tempo e guardare una serie che è esattamente identica. Tanti vogliono le serie identiche, per carità di Dio ci sta, però non è che apprezzo tanto questo tipo di operazione. Preferisco piuttosto cercare di creare qualcosa di nuovo, qualcosa che vada un po' a completare, ad allargare i confini di una serie tv. Certo, la cosa deve essere fatta bene, insomma, non deve essere una roba che non c'entra proprio nulla con la serie originale dei videogiochi. Ecco, in questo caso siamo là là, secondo me, siamo là là. Tutto è improntato sul mostrare qualcosa di nuovo, chiaramente essendo nel futuro, questo è. Però ci sono degli aspetti che la rendono poco fedele all'originale e troppo, secondo me, una novità. E questo, secondo me, non va bene, non va bene, ci deve essere un equilibrio. Ci sono dei personaggi nuovi, ci sono dei personaggi anche vecchi, ma in una loro riedizione diciamo un po' particolare, quindi che non va a creare quel legame che magari si può avere con quel personaggio appunto riferito ai giochi Capcom. Ma prima di andare a parlare un po' della trama, io andrei più che altro a guardare l'aspetto tecnico. L'aspetto tecnico, purtroppo, dopo i film di Mila Jovovich, l'aspetto tecnico è andato a farsi benedire. Già quando ho recensito Resident Evil Welcome to Raccoon City, ve l'avevo già fatto notare, che purtroppo non si va ad investire molto, a livello proprio monetario, sui film di Resident Evil. Tranne appunto i film di Mila Jovovich, dove lì c'era, secondo me, sono stati spesi bei soldi, perché c'erano molti effetti speciali, in modo particolare gli ultimi film della serie, anche se gli ultimi film della serie facevano abbastanza schifotto, quindi non è che sono stati soldi ben investiti. Però per tutto il resto, insomma, la serie di film di Mila Jovovich era molto bella a livello visivo. Qui purtroppo diamo per scontato che nelle serie TV non vengono quasi mai investiti in molti soldi, tranne forse le serie TV Marvel o Star Wars su Disney+. Però per quanto riguarda le serie Netflix, generalmente non sembrano mai serie dove dici boia cane, lì hanno buttato 3 miliardi di euro. No, quindi già in Welcome to Raccoon City, il film che vi ho recensito, era chiaro che il budget era risibile. Beh, e qui credo che il budget sia ancora più scarso, ancora più scarso di quel film. Quindi a livello visivo, sì, ci sono delle trovate, ci sono alcuni mostri addirittura che si fanno vedere, sono fatti in una computer grafica. Devo dire neanche malaccio rispetto a Welcome to Raccoon City, però poca roba, poca roba. Tutto è una serie piuttosto artigianale, non c'è grande sfoggio di investimenti fatti appunto per rendere bella e spettacolare la serie. Siamo, insomma, è un livello piuttosto medio-basso, più verso il basso. Poi la parte principale, naturalmente, che dovrebbe incuriosire i fan della serie, dei videogiochi, è chiaramente come sono stati realizzati gli zombie. E vi devo dire che i zombie sono stati fatti veramente male. Veramente male, nel senso che tutti si aspettano, insomma, il classico zombie scarnificato con la mascella che gli cade, mezzi sventrati, eccetera. Qui abbiamo niente un po' di meno che degli zombie brufolosi, ragazzi. degli zombie con dei buboni in faccia, che per carità ci sta per il discorso del virus. Però, non so, non so, mi hanno un po' ricordato, malamente comunque, gli infetti di The Last of Us. Sembravano più infettati da un fungo, piuttosto che dal virus T, insomma. Non sembrano zombie, non sono gli zombie che perlomeno noi ricordiamo. Poi abbiamo i leaker che si vedono chiaramente, che campeggiano sulla locandina di Resident Evil della serie. Anche lì, ragazzi, i leaker si vedono una volta sola in tutta la serie. Su otto episodi saltano fuori una volta sola. E si vedono anche in penombra. Quindi, non solo una volta sola, ma li vedi anche male. Quindi, sì, in una sequenza anche abbastanza veloce, rapida. Sempre meglio per carità dell'unico leaker visto mezzo secondo in Welcome to Raccoon City. Qui perlomeno in una sequenza, si vede che è una sequenza loro dedicata, ma poca roba, insomma. Uno si aspetta che il leaker, insomma, sia visto almeno in due episodi. Ma veniamo al cast. Il cast, purtroppo, dico purtroppo, è un cast di basso livello. Ci sono attori, attrici che io non avevo mai sentito nominare. Sono tutti attori, attrici emergenti. L'unico in cui vale la pena veramente soffermarsi è Lance Reddick, che l'abbiamo visto in parecchi film. Attore di colore è molto bravo, secondo me. Che, tra l'altro, ha preso parte anche ad altri videogiochi. Cioè, proprio, l'hanno digitalizzato per fare dei videogiochi. Ce n'è uno su Xbox One, in cui era protagonista sia a livello, proprio che l'hanno ripreso, a livello video, infilmati, e poi aveva dato, insomma, le sue fattezze. Lo hanno ricostruito come personaggio digitale. Era un bel gioco per Xbox, che però adesso, purtroppo, mi sfugge il nome. Magari se qualcuno se lo ricorda. Era un gioco, tra l'altro, molto carino. Quindi, tranne lui, ragazzi, tranne lui che va a fare, tra l'altro, una parte, va a ricoprire la parte di un personaggio molto importante, ai fini della serie. Tolto lui, ragazzi, non c'è... Non ci sono attori famosi, non c'è nessuno. Generalmente, nelle serie, non ci sono mai attori famosi. Magari ce n'è uno ogni tanto. Ecco. Ma, insomma, sono attori sconosciuti, che ci può stare, insomma, in una serie TV. Però neanche tanto bravi, secondo me. Poi, che dire, che dire. Come è strutturata la serie? Parliamo, appunto, di otto episodi, purtroppo il ritmo, il coinvolgimento non è altissimo. Perlomeno, fino ad arrivare i primi quattro episodi. I primi quattro episodi non succede praticamente nulla. La storia va avanti a rilento, si capisce poco, per carità, forse volevano apparecchiare tutto per il gran finale, chiamiamolo così. Però, insomma, purtroppo gli episodi, specialmente i primi, primi due episodi, perlomeno, dovrebbero far da rampa di lancio, dovrebbero invogliare lo spettatore a continuare la visione. E purtroppo i primi quattro episodi sono abbastanza noiosi, secondo me, dal quarto in poi, anche perché dal quarto in poi, iniziano a dare le rivelazioni, le rivelazioni importanti sulla storia. E quindi ecco che dal quarto in poi c'è un minimo interesse a continuare, però, insomma, non è facile arrivare al quarto episodio, ve lo dico, ve lo dico. Purtroppo, ragazzi, questa serie tv è abbastanza scarsa. Non dico che sia la peggiore che ho mai visto, però, però, insomma, non è una buona serie. Io ho voluto vederla, nonostante avessi già letto i pareri negativi, eccetera. Ho voluto vederla ugualmente per rendermi conto, a parte che, insomma, sono un accanito fan, dovreste mai averlo capito. Un accanito fan della serie di Resident Evil, quindi, ho voluto lo stesso andare a fondo e capire questa serie. Naturalmente, la serie ha un finale aperto perché loro prevedevano, chiaramente, di fare almeno un'altra stagione. Purtroppo, la serie ha riscosso poco successo, è stata piuttosto schifata da tutti, da tanti, e quindi, purtroppo, o per fortuna, la serie tv è stata cancellata, quindi non ci saranno altre stagioni. Che altro dire? Che altro dire? È apprezzabile il fatto, ripeto, di aver creato qualcosa di nuovo, è una cosa che, ripeto, apprezzo, è l'unica cosa che si può trovare di positivo, insomma, in questa serie, hanno avuto il coraggio, hanno avuto il coraggio di sperimentare cose nuove dando uno sguardo al futuro perché io capisco che, ripeto, esagerare troppo, che è quello che hanno fatto, secondo me, esagerare troppo col creare cose nuove non sempre un bene, dovevano stare un po' più, volare un po' più basso, essere un po' più equilibrati per il fatto di aver creato cose nuove. però è anche vero che forse riproporre lo stesso canovaccio dei film, quindi rivedere le stesse scene dei film, eccetera, cioè, ricreare le stesse sequenze, le stesse situazioni dei videogiochi, alla lunga forse stancava, quindi è apprezzabile, è molto apprezzabile il fatto che abbiano creato cose nuove, però le hanno fatte un po' così, alla membro di Canide, diciamo. una cosa che vale la pena dire è il fatto che se qualcuno, per esempio, dubito, ma se qualcuno si avvicina a questa serie tv senza aver mai visto un videogioco di Resident Evil, secondo me neanche lì ci siamo, secondo me neanche lì ci siamo, perché non è una serie, cioè, si deve avere un background per vedere questa serie, magari non dico di aver giocato a tutti Resident Evil, ma sapere, conoscere la storia nelle sue, diciamo, fasi principali è necessario, è necessario, anche perché ci sono dei rimandi palesi, ci sono dei rimandi ai giochi, quindi se uno non ha ben chiaro cosa è successo nei videogiochi, fa un po' fatica ad entrare, ad entrare, diciamo, in merito alle situazioni che vede, quindi fa un po' fatica a capire bene la storia, sì, i rimandi magari non sono tantissimi, però alcuni sono fondamentali e quindi secondo me non so quanto potranno gradire questa serie tutti coloro di Resident Evil non l'hanno mai sentito nominare, chiaro che questa serie va ad attirare i giocatori di Resident Evil, ovviamente, però, ripeto, è apprezzabile, è apprezzabile il fatto che abbiano creato qualcosa di nuovo, però, alla fine fine è una serie piuttosto scialba, la cosa che va a snaturare troppo, secondo me, e va a standardizzare, a stereotipare questa serie tv, purtroppo, io la chiamo la sindrome di Stranger Things, perché la maggior parte del tempo che voi passerete a vedere questa serie tv, si riferisce al vedere le gesta di Jade Wesker, qui insomma un piccolo spoiler, lo posso fare, anche perché è la prima cosa che vedrete nella serie, quindi non è che, vedrete una Jade Wesker, figlia ovviamente di Albert Wesker, adolescente, e quindi praticamente per lunghi tratti vi sembrerà di vedere Stranger Things, quindi il tutto è quasi tutto incentrato sull'adolescenza di Jade Wesker, quindi per carità, no, poi c'è l'umbrella e tutto quanto, però, però insomma, non che Stranger Things mi dispiace, io adoro Stranger Things, però noto che alcune serie tv e purtroppo Resident Evil la serie ne è vittima anche lei, che cercano sempre di buttare dentro dei bambini, dei ragazzini per fare tante serie tv e quindi e quindi insomma secondo me va un po' a snaturare perlomeno la serie tv di Resident Evil. Quindi ragazzi io direi che siamo, io non voglio essere troppo cattivo con questa serie ripeto non è così terribile non è così terribile si fa vedere a patto che abbiate del tempo da perdere e che arriviate almeno al quarto episodio poi un po' di soddisfazioni le può dare però insomma poca roba. Io mi sento di dare un 5 5 e mezzo dai 5 e mezzo perché comunque non è da 4 direi non è da 4 perché alcune idee interessanti ci sono però sono mal gestite attori secondo me neanche così bravi tranne l'SR di cui vi ho parlato prima e il difetto più grande ripeto è aver voluto creare cose troppo nuove c'era troppa carne al fuoco mal gestita che può far storcere il naso insomma ai puristi ai puristi della serie quindi ragazzi io mi fermerei qui per quanto riguarda la parte non spoiler ora faccio un po' di spoiler tanto per farvi capire un po' un po' di cosa parliamo quindi se ancora non avete visto la serie io vi consiglio di fermarvi qui altrimenti continuate a vedere appunto la recensione per per sapere cosa ne penso un po' di più nello specifico quindi attenzione perché gli spoiler iniziano fra 3 2 1 ciao a tutti amici a tutti e benvenuti alla parte spoiler per quanto riguarda la recensione di Resident Evil la serie allora come avevo già accennato nella parte nella prima parte della recensione parliamo di Jade Wesker figlia di Albert Wesker ragazzi la vediamo inizialmente nel 2036 adulta che cerca di analizzare gli zombie perché ormai nel 2036 il mondo è andato proprio è una catastrofe ok l'intero mondo è saltato per aria a causa dell'epidemia zombie e lei vaga di luogo in luogo cercando di trovare una cura sostanzialmente di analizzare gli zombie cercando di capire come fare per creare una cura o addirittura cercare di rimanere immuni agli zombie cioè il fatto di non essere avvistati dagli zombie quindi tipo gli zombie neanche vi vedono un po' come quello che succedeva in World War Z con Red Pit se vi ricordate insomma eludere gli zombie senza farsi mangiare quindi tecnicamente non sarebbe teoricamente non sarebbe neanche male come cosa solo che secondo me è un po' spiazzante il fatto che passano da lei adulta a lei adolescente perché naturalmente come dicevo la maggior parte della serie è incentrata sulle adolescente quindi la vediamo nel 2022 nella sua famigliola con Albert Wesker ragazzi Albert Wesker interpretato dall'Ans Reddick che è un attore di colore ragazzi anche qua io non ho nulla contro il fatto di cambiare anche etnia a certi personaggi ancora ancora non l'ho capito sì per carità loro intendono per includere un po' anche persone di altre etnie ripeto in questi in questi progetti però al di là di tutto insomma al di là del personaggio di chi hanno messo e comunque lui è un bravo attore ci sta il fatto di vedere Albert Wesker con una famigliola bello buono e tranquillo in una new raccoon city che si trova in in Sudafrica perché la vecchia raccoon city era esplosa nel 2022 naturalmente l'epidemia zombie mondiale non era ancora scoppiata vederlo lì tranquillo con la famiglia con Jade e la sorella Billy e già il fatto di vedere Billy bianca di pelle vi fa capire che c'è qualcosa che non quadra che c'è veramente qualcosa che non quadra dove lui lavora per l'umbrella chi gestisce l'umbrella è Evelyn Marcus che è la nipote di Marcus uno dei due fondatori dell'umbrella insieme a Spencer è lei che gestisce diciamo l'umbrella quindi nel 2022 l'umbrella c'è ancora poi c'è una bella sorpresa perché ad un certo punto si capisce che quel Wesker che vediamo non è il Wesker vero e proprio il Wesker vero e proprio era morto ancora anni prima il Wesker che vediamo è un clone ragazzi un clone come poi se ne troveranno altri quindi ci sono più cloni di Wesker creati da Evelyn Marcus perché gli desse una mano a creare il virus sotto forma di una pastiglia antidepressiva pensate cosa si sono inventati quindi dare pastigli antidepressive faceva sviluppare un po' il virus loro dicevano tenendolo sotto controllo ma in realtà poi si capirà che sta pastigliona faceva diventare tutti alla fine degli zombie quindi lei crea questi cloni perché riconosce in Wesker l'originale un genio e quindi i cloni gli danno una mano per creare il vaccino eccetera però insomma è tutta una roba un po' un po' troppo in là secondo me non credo che in tanti siano pronti per vedere una roba del genere fatta anche un po' malino ecco devo essere devo essere sincero poi ripeto siccome molte scene molte sequenze sono ambientate appunto nel 2022 quando Jade è adolescente loro vanno a scuola poi la sorella viene morsa da un cane malato all'interno di Umbrella perché erano animaliste loro volevano intravedere che fanno esperimenti sui conigli e loro si introducono una sera in Umbrella scoppia il casino un cane la morde e allora poi c'è l'altra Billy che ha le crisi sta per diventare zombie non diventa zombie c'ha le crisi poi si calma alla fine si capisce che il virus fa parte di lei e che non si è infettata un po' come Ellie cioè si è infettata ma riesce a gestire il virus un po' come Ellie in The Last of Us quindi anche l'Abbion hanno un po' secondo me scoppiazzato quindi quei compagni di scuola che vengono presi in giro ecco soffre troppo della sindrome di Stranger Things poi la storia si evolve però ragazzi però ragazzi c'è troppo Stranger Things anche qua poi chiaramente diventano adulte lei Jade cerca di riporre rimedio a tutto lo schifo che ha fatto il clone di suo padre praticamente e scopriamo che invece Billy si è unita all'Umbrella quindi lo scontro fra sorella ecco finale aperto perché ovviamente loro non pensavano che questa serie fosse così criticata e invece purtroppo ripeto l'han cancellata quindi che vi devo dire ragazzi io per carità se siete dei fan di Resident Evil ma fan veri proprio tutto d'un pezzo come lo sono io non vi sconsiglio di vederla io vi consiglio di dargli un'occhiata magari qualcosa di salvabile c'è certo ripeto dovete arrivare al quarto episodio perché dal quarto episodio iniziano veramente le cose interessanti si scopre che Wesker è un clon non so se al quarto o al quinto però insomma la serie parte abbastanza abbastanza bene diciamo dal quarto episodio se invece siete di fan così così io vi consiglio di lasciar perdere assolutamente chi non ha mai visto Resident Evil in vita mia non sa neanche cosa sia vedere questa serie è assolutamente inutile perché capirete veramente ben poco e poi non entrerete nel feeling della serie già questa serie si discosta troppo dalla serie di videogiochi quindi già là si fa fatica figuratevi voi uno che non ha mai visto un Resident Evil in vita sua quindi ragazzi io ripeto concluderei qui dicendo che purtroppo è l'ennesima occasione sprecata dopo un Resident Evil Welcome to Raccoon City di cui avevo buone aspettative buone speranze ma anche là secondo me pur essendo un buon film Welcome to Raccoon City è sicuramente migliore è sicuramente migliore di questa serie qua non ce ne piove non ci piove che sia migliore il film però anche là insomma è poca roba poca roba comunque se volete saperne di più andate appunto a vedere la recensione che ho fatto tempo fa quindi ragazzi grazie a tutti per aver visto fino a qua mettete un mi piace al video condividete lo si social iscrivetevi al canale abbonatevi per tutta una serie di vantaggi come video e live in esclusiva e iscrivetevi a tutti i canali al canale Tele al canale Twitch Facebook ecc grazie a tutti ragazzi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live ciao ciao a tutti i canali Grazie.